Allora, Cotton Sound, nata nel 2001, si occupa principalmente di produzione e commercializzazione di prodotti per la cura della persona. Bastoncini cotonati, poliorecchie, dischetti leva trucco, cotone idrofilo, telini per bambini, faldine, fazzoletti. Lavoriamo in tutta Italia, siamo praticamente il principale fornitore della grande distribuzione. È nata come azienda che produceva in private label e negli ultimi 12-18 mesi abbiamo iniziato a portare avanti il nostro brand e contiamo di diventare un brand conosciuto in tutta Italia, su tutto il mercato italiano e anche all'estero perché già esportiamo in Cina e in Medio Oriente, ovvero aree del mondo dove il made in Italy, il prodotto di qualità, ha un discreto appeal. Noi lavoriamo esclusivamente materie prime di primissima qualità, non lavoriamo cascami di cotone, non lavoriamo con poliestero e cotone di prima pettinatura, sbiancato esclusivamente con acqua ossigenata, quindi non esistono sbiancanti ottici. Le falde dei nostri dischetti sono particolarmente alte per consentire un'assorbenza maggiore. I puliorecchie sono fatti in materiale biodegradabile già dal 2001, quindi non siamo noi responsabili delle plastiche sulle spiagge. L'ultima novità tra l'altro per i puliorecchie è anche la confezione compostabile biodegradabile, quindi il nostro prodotto è ecologico a 360 gradi. Sembrano materiali prodotti mass market, però in realtà anche per questo tipo di referenza c'è dietro uno studio, una ricerca, una tecnologia che negli anni si è sviluppata. Siamo conosciuti per essere un'azienda che innova costantemente. Abbiamo cercato di rendere comunque un prodotto davvero di utilizzo comune il più efficiente, il più ecologico possibile. Siamo comunque un'azienda, un'industria che lavora, fa 2 miliardi di bastoncini all'anno, fa tonnellate di cotone tutti i giorni e che distribuisce a 56 milioni di persone. Allora, Cotton Sound comunque è un'azienda che ha da sempre sposato lo sport. Abbiamo sponsorizzato sempre le squadre di calcio locali, adesso c'è stata l'opportunità di fare questo grande passo. L'azienda sta crescendo, ci è sembrata un'ottima vetrina per il nostro marchio e ci è sembrato anche opportuno dare un'ottima possibilità a una squadra della zona. Le ragazze sono fortissime e speriamo un ottimo risultato come ci aspettiamo per il nostro brand.